ciao a tutti ciao a tutti ben ritrovati sulla piattaforma youtube sul nostro canale stefano bernardi meteo ci siamo i 1600 iscritti sono a pochissimi metri stiamo a 1.590 e quindi veramente siamo lì a pochissimi metri da quest'altro traguardo allora iscrivetevi al canale se non l'avete fatto fate iscrivere amici parenti tutti quelli che voi conoscete fatevi iscrivere perché il traguardo dei 1600 ma ormai è lì ma ricordiamoci sempre che il l'obiettivo principale quello dei 2000 iscritti per il mese di novembre e iniziare il semestre freddo con una famiglia allargata a 2000 iscritte questo è l'obiettivo principale quindi iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e lasciate un like alla fine del video per spingere il video il canale e commentate come sempre dicevamo 15 settembre quindi giro di boa del mese di settembre l'equinozio d'autunno ormai vicinissimo manca una settimana domenica 22 avverrà l'equinozio d'autunno la circolazione varica l'atmosfera le precipitazioni che abbiamo avuto le le nevicate sulle alpi a quote relativamente basse per la stagione le nevicate sull'appennino a quote relativamente basse per la stagione qui in abruzzo ad esempio ci sono state imbiancate nevicate da 2000 metri ma ci sono stati episodi di precipitazione nevosa quindi senza accumulo ma fino addirittura attorno ai 1500 metri quindi insomma una situazione non anomala ma certamente un pochino fuori stagione più un'atmosfera tipica della fine di ottobre l'inizio di novembre che un inizio d'autunno ecco diciamo così però sono situazioni che accadono configurazioni che accadono anche nel mese di settembre quando queste accadono ovviamente ci fanno vivere episodi anche le stesse temperature sia gli episodi sia le temperature consone ad un periodo un po più avanti dell'autunno ma nulla di strano assolutamente questa chiacchiera che ci facciamo come sempre sul canale youtube vuole invece puntare il dito sul proseguo di questo mese di settembre perché attenzione non c'è niente che mi fa e ci fa pensare che questo settembre possa mostrare un volto sia più stabile e persistente di una figura anticiclonica non ci sono assolutamente segnali per questa per questa evoluzione per questa tendenza del mese di settembre ma al contrario ci sono tanti segnali che ci dicono che questo mese di settembre anche sia nella prossima settimana ma anche nell'ultima settimana possa essere ancora molto dinamico e con nuovi peggioramenti seppur con caratteristiche diverse pronti ad interessare il mediterraneo occidentale ma quello che ci interessa noi è soprattutto l'italia quindi nessun segnale ad oggi di un settembre che possa voltare pagina e mostrarsi più stabile ma bensì altri segnali che ci mostrano che questo settembre potrebbe proseguire con la sua dinamicità più totale e quindi nuovi peggioramenti all'orizzonte in questo contenuto spieghiamo anche un attimo non si tratta di punti di walk off quello al quale andiamo incontro la prossima settimana perché sto leggendo e oltretutto in tanti mi mandano i messaggi perché io non l'ho chiamato ponte di di walk off se in realtà qualcun altro lo chiama ponte di walk off semplicemente perché non è un ponte di walk off adesso senza andare poi nei nelle specifiche precise di usare terminologie che sono anche diciamo scomode da capire per voi e per insomma per chi vuole affrontare questa materia della meteorologia in maniera diciamo più più serena più tranquilla più trasparente però vi faccio capire perché non è un punto di walk off quello della prossima settimana ma innanzitutto andiamo a vedere quello che accade la prossima settimana che è una conferma una super conferma di tutto quello che noi abbiamo detto anche questa volta e ne siamo felici ed orgogliosi da diversi giorni fa eccola qui questa prima carta è una carta che ci mostra praticamente è come se avessimo fatto un copia e incolla delle ultime carte che vi ho fatto vedere durante il corso degli ultimi contenuti praticamente queste per martedì 17 guardate il ponte anticitronico quello si guardate che bella questa carta ve l'ho detto anche nell'ultimo contenuto ma è bella didatticamente meteorologicamente anche perché è una configurazione che nei da novembre a marzo queste sono configurazioni che portano peggioramenti di stampo invernale forti potenti cruenti sono quei peggioramenti che tra novembre e marzo portano anche le nevicate fino alle quote di pianura fin sulle coste ad esempio adriatiche con la configurazione così se parliamo ad esempio per il nord italia può portare delle nevicate ad esempio su venezia se parliamo del centro italia sono delle configurazioni che tra novembre e marzo possono portare delle nevicate su pescara su ancona se andiamo al sud a bari ecco insomma sono quelle configurazioni che tra novembre e marzo portano gelo e neve fino alle quote di pianura e fin sulle coste ad esempio del versante adriatico poi quando i nuclei vedete quella b sconfinano ad esempio anche sul tirreno ecco che si creano anche quelle situazioni da poter portare delle nevicate fino in pianura ma anche sulle coste delle regioni del versante tirrenico insomma una configurazione del genere con una nucleo depressionario che poi riesce ad entrare anche nel mar tirreno può portare ad esempio anche la neve su roma ecco per 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 citare anche la capitale comunque è quello che questo è quello che ci aspetta durante il corso della prossima settimana soprattutto tra lunedì martedì 17 e mercoledì 18 a aria fredda nucleo depressionario soprattutto in quota quindi aspettiamoci su gran parte dell'italia soprattutto il centro nord ma un po tutta l'italia dell'instabilità atmosferica nuova diminuzione delle temperature e vedrete che ricomparirà anche la neve sulle alte quote sia delle alpi ma in questo caso probabilmente più dell'appennino sulle alte quote dell'appennino centro settentrionare quindi dell'appennino abruzzese ad esempio il gran sasso rivedrà probabilmente la neve come le alte quote anche dell'appennino tosco emiliano insomma questo è il peggioramento questa è la situazione che ci aspetta almeno nella prima parte della prossima settimana non è un ponte di woikov questa è un'alta pressione che si collega tra l'anticiclone delle azzorre e si collega con un anticiclone russo scandinava vedete non c'è uno non c'è un anticiclone russo siberiano è una è un ponte alto pressorio tra l'anticiclone delle azzorre l'anticiclone russo scandinavo ma non un collegamento un ponte alto pressorio con l'anticiclone russo siberiano il ponte di woikov è quando c'è il collegamento c'è il ponte tra l'anticiclone delle azzorre che poi si si prolunga e va verso la penisola scandinava ma soprattutto poi si collega con l'anticiclone russo siberiano guardate questa questa carta anche questa è molto bella didatticamente ma stiamo facendo didattica questo è un ponte di woikov vedete in giallo vi ho segnato l'anticiclone russo siberiano vedete ad esempio verso la siberia verso l'ultima in alto il rosso il 1035 1040 lì siamo praticamente sulla siberia l'anticiclone che si collega con l'anticiclone anche russo vedete quella il cerchio giallo è proprio l'anticiclone russo siberiano e vedete l'anticiclone delle azzorre che si posiziona per meridiane vedete le frecce sale fin sulla penisola scandinava e poi si collega proprio con l'anticiclone russo siberiano vedete che diverso proprio la proprio le zone ed il piegamento verso nord est di questa alta pressione rispetto a quella che noi vedremo e abbiamo visto per la prossima settimana quindi questo è un ponte di woikov collegamento con l'anticiclone russo russo siberiano questo qui invece per la prossima settimana vedete è un è un ponte anticiclonico ma non il ponte di woikov perché è un collegamento azzorre alta pressione russa scandinava ok detto questo passiamo all'ultima carta che vi voglio far vedere oggi che per sabato 21 settembre perché questa carta mi fa pensare ci fa a pensare che anche l'ultima settimana poi di settembre possa essere caratterizzata da molto dinamismo e dall'arrivo di nuovi peggioramenti peggioramenti che probabilmente l'ultima settimana di settembre arriveranno da ovest occhio secondo me nell'ultima settimana di settembre ci giocheremo qualche peggioramento importante da ovest con piogge importanti che potrebbero arrivare sull'italia segnali ad oggi segnali li riprenderemo al prossimo contenuto vedete l'alta pressione posizionate in quelle zone un po strane un po anomale vedete sul sul nord europa l'alta pressione che poi dal nord europa vedete arriva fin sulla groellandia poi l'anticiclone dell'azzorre che è posizionato per semi meridiani quindi crea i presupposti per le ondulazioni situazione ibrida vedete quel cerchio azzurro sull'italia una situazione ibrida e ibrida in quota non avremo né un'alta pressione ma né tantomeno una bassa pressione l'avevamo visto nell'ultimo contenuto quindi saremo verso il prossimo fine settimana in un limbo barico e le ondulazioni vedete b1 e b2 vi ho segnalato quei due nuclei perturbati a mio avviso ad oggi ci sono segnali ad esempio b1 quella bassa pressione quella perturbazione posizionata che noi dovremmo avere il 21 settembre posizionata al largo del golfo di biscaglia fin verso la gran bretagna ecco per me ci sono dei segnali che quella bassa pressione durante l'ultima settimana di settembre possa venire possa entrare nel mediterraneo modo a moto e a modo di ondulazione da poter portare oltretutto troverà un polo a trattore la calamita che quella quel cerchio azzurro quella situazione ibrida sull'italia può fare da polo a trattore a quella perturbazione potrebbe entrare proprio nel cuore del mediterraneo da ovest e lì apportando eventualmente nell'ultima settimana di settembre un importante peggioramento con piogge e non un peggioramento dal carattere freddo ma piogge diffuse un po su tutta l'italia però adesso questo è un segnale sono segnali importanti che ci fanno intuire che l'ultima settimana di settembre anche possa essere caratterizzata da nuovi peggioramenti questa volta potrebbero essere dei peggioramenti da ovest fuorieri di piogge sull'italia ma fermiamoci per l'ultima settimana di settembre ai segnali ecco non chiamiamola ancora tendenza però sono segnali importanti ci torneremo proprio nel prossimo contenuto bene io mi fermo qui per oggi continuate a passare una buona domenica iscrivetevi al canale ci siamo i 1600 sono lì attivate la campanella delle notifiche lasciate un commento è la cosa più importante e il like il like alla fine del video che serve per spingere questo video e per far crescere lo stesso canale a presto grazie a tutti